La procura di Catania ha avviato un'inchiesta per conoscere le cause che lunedì hanno portato nel lab realizzato nell'ex mercato ortofrutticolo di Catania alla sospensione precauzionale della somministrazione di un lotto di vaccini per un problema nella catena del freddo. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS di Catania per accertare eventuali reati colposi nella conservazione delle dosi o reati dolosi. La sospensione dell'uso di quel lotto per le vaccinazioni è stata adottata a scopo precauzionale dopo che gli operatori hanno notato che il frigorifero dove erano conservate le dosi ha avuto un problema con l'alimentazione elettrica. Intanto a Messina dopo lo stop di ieri al Lab della Fiera si ricomincia oggi con le pernotazioni dei soggetti vulnerabili che soffrono di malattie e disturbi gravi quindi considerati fragili con priorità e destinati a ricevere il vaccino Pfizer. L'ufficio commissariale di Messina diretto da Alberto Firenze ha prontamente predisposto un'importante manifestazione di interesse rivolta a tutta la cittadinanza di Messina e provincia per ottimizzare e velocizzare la vaccinazione di massa ed evitare l'eventuale spreco di dosi Pfizer a fine giornata dato che si tratta di un vaccino che richiede un rigido rispetto di parametri di stoccaggio e conservazione e talvolta se la persona avente diritto non si presenta alla somministrazione non è possibile inocularla a chi non è previsto dalla normativa. L'ufficio commissariale stilerà un elenco speciale delle persone che manderanno l'istanza così da utilizzare al massimo le fiale Pfizer sempre nel rispetto della priorità per categoria fermo restando la reperibilità della persona a presentarsi per ricevere la dose senza che possa andare sprecata.